Perchè sei salito su quella roccia? Prova a indovinare! Vuoi provare a saltare giù? No! Perché così posso essere incredibilmente alto! E perché? Perché così sarò uguale al mio super fantastico papà! E com'è il tuo papà? È super fantastico, appunto! Tuo padre ha i baffi? No! Ma ha un collo davvero incredibile! E delle zampe eccezionali! E cammina in questo modo! Allora, tuo padre deve essere molto elegante! Sì! E anche delle piume super fantastiche! Non le hai anche tu? Io sto ancora aspettando che le mie crescano! E prima che avvenga ci vorrà moltissimo tempo! Eccolo! È lui! È il mio papà! Dimmi se le sue piume non sono super fantastiche! Wow! Sono davvero incredibili! Aspetta, aspetta, aspetta! Sei un animale con il collo lungo, il becco e una bellissima coda colorata! Non so chi sei! Tu sei il pavone! Esatto! Ma come hai fatto a intaminare? Sì! Sì! Oh, 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 oh.